Protesta davanti i cancelli del carcere di Teramo, delle sigle sindacali e degli agenti di polizia penitenziari in servizio presso la casa circondariale di Castrogno, contro il sovraffollamento dei detenuti, la mancanza di personale e mancanza di sicurezza al suo interno. La sicurezza è stata messa da parte di questa amministrazione. Noi oggi abbiamo 140 unità in forza sui 218 previsti, con la capienza di detenuti che veste fuori 400 detenuti. Quindi abbiamo oltre 150% in più di sovraffollamento, noi non riusciamo più a garantire la sicurezza minima, le ferie che il personale sta svolgendo, perché sta messa in ginocchio l'intero interno del lavoro, perché chi resta in servizio deve fare doppi e tripli turni di servizio. Una situazione di criticità nel carcere di Teramo definita annosa e in continuo peggioramento. Ormai sono anni che puntualmente ci ritroviamo a protestare contro questa carenza di personale che ormai è diventata cronica, però abbiamo questo problema che rispetto al resto della nazione il centro Italia, anche un po' il sud, però il centro Italia ne subisce sempre con numeri maggiori. Infatti noi proprio ieri siamo stati sul tavolo regionale dove abbiamo chiesto al nostro provveditore che non si può accettare una ridistribuzione di 300 unità in un provveditorato così carente, dove le carenze toccano il 40% e si continua ad assegnare personale al nord provveditorati come il Piemonte, come la Lombardia, che hanno una carenza del 4-5, arrivano massimo all'8%. L'appello delle sigle sindacali è rivolto anche alla politica locale e regionale affinché si trovi una soluzione. Sicuramente si può chiedere alla politica abruzzese un intervento rispetto al Dipartimento e portare al centro l'Abruzzo, al centro dell'attenzione. Noi paghiamo a livello regionale una carenza di personale che non si riscontri in altre regioni, soprattutto alle regioni del nord Italia. Quindi questo sicuramente è un passaggio da affrontare con la politica regionale e con le altre istituzioni. Sicuramente questo deve essere fatto immediatamente prima che la situazione degeneri. Una giornata di protesta, però i lavoratori qui all'interno del carcere cosa possono fare? Di certo non possono lasciare il lavoro e fermarsi totalmente? No, innanzitutto va tutta la nostra solidarietà al personale che lavora in questo istituto, che vive in una condizione gravissima di sovraffollamento e di carenza di personale. Un mix esplosivo che rischia di compromettere l'ordine e la sicurezza di questo istituto. Le condizioni di lavoro, come dicevo, sono drammatiche. Il personale è costretto a coprire più posi di servizio, a fare il lavoro straordinario, a non andare in ferie. Per cui oggi siamo qui per ribadire la nostra posizione e chiedere all'amministrazione un intervento urgente per risolvere la questione che non è più tollerabile.